E' l'OSAP, l'organizzazione sindacale autonoma di polizia penitenziaria, ad accendere nuovamente un riflettore sulla grave situazione gestionale del C3, il nuovo padiglione che era stato aperto per presunti covid e nuovi arrivi ed oggi viene utilizzato per isolamenti sanitari come il reparto ROP, il reparto osservazione psichiatrica. Il personale, secondo il sindacato, già non è sufficiente a tenere sotto controllo tutta la popolazione carceraria, ma viene utilizzato per gestire pazienti psichiatrici. In carcere arrivano personaggi come quello che è accusato di aver ucciso Eleonora e Daniele, spiega Ruggero D'Amato, vice segretario regionale OSAP. Per fortuna le forze dell'ordine hanno fatto un lavoro straordinario. Faccio un plauso ai inquirenti, magistrati e carabinieri, ma ora chi lo gestisce per decenni un soggetto che potrebbe aver bisogno di cure psichiatriche nel momento in cui la giustizia dovesse riconoscerlo colpevole? Ed ancora, secondo D'Amato, cose normali in qualsiasi campo come formazione e addestramento vengono fatte molto raramente. Pertanto, continua, chiediamo un immediato riscontro e correttivi alle sopracitate problematiche che vivono i poliziotti penitenziali di ogni ruolo e grado, ma soprattutto nel ruolo di agenti e assistenti. Chiediamo inoltre di farci sapere qualcosa sullo stato psicofisico dei poliziotti assenti per tali ragioni. Quali sono le iniziative intraprese per la salvaguardia psicofisica degli stessi da parte di chi gestisce il sistema penitenziario? Le domande sono sempre le stesse e in attesa di risposta, secondo il segretario.